Di nuovo negli studi di Pardo Live e di nuovo in compagnia di Olivier Per per questa chiacchierata, giorno numero 2 del festival dopo Super 8 e dopo Minelli, si entra nel vivo, ci sono i primi film in concorso, senza entrare nello specifico dei film però una prima domanda Olivier, quali sono le linee su cui hai organizzato, confezionato il concorso di quest'anno, i due concorsi? Il concorso internazionale quest'anno ci sono 20 film, 20 lunghi metraggi di registi, alcuni sono conosciuti, sono già venuti a Locarno, altri sono registi importanti che vengono per la prima volta a Locarno in concorso e ovviamente come da solito ci sono tante discoperte, film di giovani registi e tre opere prime. I due primi film in concorso quest'anno sono il film Beirut Hotel di Daniela Arbid, una regista libanese che lei conosce molto bene il festival perché ha già avuto tanti film, i suoi primi saggi documentari, aveva anche vinto un premio a Locarno e questo film Beirut Hotel è la sua terza opera di fizione, è un film ambientato a Beirut, come lei è veramente una regista che ha fatto tutto il suo lavoro cinematografico sulla città di Beirut, con documentari però anche con fizione è una storia, questo film è piuttosto un thriller, storia d'amore, storia di spie internazionali con Charles Berling e il secondo film è un film rumeno, Best Intention di Adrián Citarú e un'opera seconda di Adrián Citarú, giovane regista rumeno che aveva già vinto a Locarno per un cortometraggio e dunque è di ritorno anche lui a Locarno per un film molto riuscito. Ecco quindi un concorso segnato da ritorni ma anche da scoperte, passiamo alla piazza, il programma della piazza un grande personaggio stasera in piazza. Sì, la prima diva di Locarno quest'anno è Leslie Caron, l'attressa francese che ha fatto la gran parte della sua carriera a Hollywood e viene per la sua autobiografica tradotta in francese e in francese a Hollywood che racconta il suo incontro con Jen Kelly e lei era ballerina a Parigi, molto giovane e Jen Kelly l'ha visto e l'ha preso per recitare con lui in un americano a Parigi dunque racconta il suo primo viaggio a Hollywood, il suo primo contratto con la MGM e dopo ha fatto tanti incontri con Jean Renoir, con Warren Beatty, con François Truffaut con il suo ritorno in Francia e ha fatto due film con Minelli, un americano a Parigi, Gigi e anche un segmento, un cortometraggio di un film collettivo che si chiama Mademoiselle dunque lei è una grande signora e siamo molto contenti di invitarla a Locarno per parlare del suo lavoro della sua carriera e soprattutto della sua collaborazione con Minelli anche perché Leslie Caron, diciamo così, è stata una delle star del musical poi ha anche virato nella sua carriera verso ruoli più drammatici quindi ha spaziato nei generi spaziare nei generi che sembra una delle caratteristiche anche della piazza dei film in piazza, una cosa che ha portato Olivier Per è vero che i due film della piazza questa sera sono due film di genere ma molto particolare, il primo è un thriller norvegiano Head Hunters che è veramente un film a me che mi piace molto e penso che è un film dove si deve lasciarsi sorprendere è un film molto strepitoso, con molta azione è una storia abbastanza diabolica, una storia di manipolazione è un film veramente eccitante e il secondo film è un film anche lui eccezionale perché è un'opera prima di fantascienza si chiama Elle è un film dopo l'apocalisse è un mondo diventato un deserto con sopravvissuti che cercano acqua e benzina e la cosa interessante è che è un film svizzero è coprodotto da Roland Emmerich grande specialista della fine del mondo dunque penso che sarà un film molto divertente per quelli che amano la fantascienza Allora, buona visione della fine del mondo e buona giornata a te Olivier ciao ciao Grazie a tutti.